Sadhguru, cosa posso fare per il mio guru? Come posso sopportarti? Ho sentito di voler fare qualcosa, non so cosa. La cosa migliore che puoi fare è non avvelenarti con tutte queste cose. Questa è la cosa migliore che puoi fare per il tuo guru. Voglio che tutti voi ricordiate questo. La cosa migliore che tu possa mai fare per il tuo guru, se proprio senti di volerlo fare, è che tu lasci cadere le tue assurdità e cresca. Qual è la cosa migliore che un giardino può fare per un giardiniere? Crescere e fiorire, non è così? No, no, vogliamo fare questo per te, vogliamo fare quello per te. Non è quella l'intenzione. Non è quello l'obiettivo. La cosa migliore che tu possa fare per chiunque è di fare ciò che vogliono. Non è così, non quello che vuoi tu. E' sempre questo il problema. La cosa migliore che puoi fare per chiunque è devi fare quello che vogliono. Tutta questa attività. Io sono molto... Le persone che mi hanno conosciuto all'inizio. ero una persona estremamente taciturna. Non dicevo mai niente. C'erano giorni in cui non facevo un voto del silenzio. Ne ero spirituale, ok? Ero semplicemente lì. Perché il più delle volte che tu andassi a scuola o all'università o dovunque andassi che lo studente parlasse o l'insegnante parlasse tutti dicevano tali assurdità perché ero terrorizzato dalle loro conversazioni. Si aprivano la bocca. Se non ti uccidevano con il loro alito ti uccidevano con una conversazione orribile. Pochissime persone su questo pianeta possono semplicemente dire qualcosa con gioia. Non importa. Non devi dire qualcosa di eccezionale. semplicemente parlare con il cuore dicendo qualcosa o semplicemente essere in grado di essere con un'altra persona. Pochissime persone. Tutti gli altri cercano disperatamente di essere intelligenti o ripetono qualcosa che hanno sentito da qualche parte che hanno letto da qualche parte qualche assurdità senza fine. Quindi non parlavo mai. Molto raramente parlavo. In alcuni posti ero vivace in modo esuberante ma nella maggior parte degli altri posti ero perché avevo capito che se non parlavo non parlavano, mi salvava. Quindi, ora tutto questo parlare senza fine questa attività senza sosta non importa dove sono sono costantemente in gruppi di persone nemmeno con singoli individui costantemente con enormi gruppi di persone o in pubblico seduto dietro a un microfono oppure ovunque cammino ci sono almeno dieci persone intorno a me quindi questa non è una mia scelta personale questo è un terribile bisogno che esiste nel mondo che se non comunichi nel modo che la gente conosce se non ti comporti agisci nel modo che la gente conosce adesso se non cammini due passi con loro non puoi mai farli camminare in una direzione diversa quindi non c'è niente che tu possa fare la cosa migliore che puoi fare è che tu cresca e sbocci lascia cadere le tue assurdità le tue assurdità passate lasciale a me le assurdità presenti le gestisci tu se fai questo è la cosa migliore no, supponi che tu muoia anche se morissi non interromperò la parte spirituale della mia attività quindi non sono così preoccupato di questo sì, siamo preoccupati la fondazione potrebbe essere danneggiata l'attività potrebbe essere danneggiata ma non la parte spirituale del lavoro la preoccupazione è che le persone saranno qui e se non crescono ho piantato delle persone nel mio giardino e non sono mai sbocciate di questo sono terrorizzato quindi quelli di voi che sono molto pazienti che vogliono venire qui per dieci vite e farlo mi stanno bene ma penso che dobbiamo costruire un ashram esterno per loro anche qui c'è in un certo senso ma non vorremmo che fosse qui per varie ragioni vorremmo che tutti quelli che vengono qui siano assolutamente qui nel cuore stesso di ciò che sta accadendo non voglio creare un cuore una periferia qui qui c'è solo un luogo ardente che è ovunque quindi se sai hai visto i pop corn hai mai visto i pop corn vedi un solo dannato mais come è fiorito la quantità giusta di calore ma alcuni si bruciano alcuni non scoppieranno questo perché non tutti hanno ricevuto lo stesso calore alcuni non lo ricevono correttamente fanno cose strane e invece di scoppiare vengono carbonizzati invece di fiorire hai visto un pop corn fiorire? è un fiore che puoi vederlo mentre accade giusto? gli altri fiori ci mettono troppo tempo quindi proprio qui si apre davanti a te allora hai visto questo accadere alle persone quando vengono per ingegneria interiore bava spandana nel giro di tre giorni le persone sono così ma non vogliamo che si fermino lì perché siamo persone a Tanaiku, a Saipadu sai cosa significa? desideriamo ogni cosa non desideriamo tanta crescita così o tanta crescita colà non siamo disposti ad accontentarci di nulla di meno della totalità se sei disposto ad accontentarti della pace potremmo sistemarti molto facilmente se sei disposto ad accontentarti dell'amore ti sistemeremo molto facilmente se sei disposto ad accontentarti della beatitudine potremmo sistemarti molto facilmente ma siamo a Tanaiku, a Saipadu non ci accontenteremo di niente vogliamo tutto quanto per questo tipo di modalità siamo semplicemente attivi attivi, attivi e attivi se sei disposto ad accontentarti di una di queste cose pace, amore, soddisfazione, felicità avremmo potuto sistemarti molto facilmente quindi se vuoi accontentarti di una qualsiasi di quelle cose va bene è una tua scelta ma allora non devi essere nel cuore delle cose potresti essere ovunque e comunque farlo, sai? allora cosa potrei fare? soprattutto se Sadhguru morirà domani devi sbocciare stanotte non è così quindi voglio che tu guardi la vita in questo modo tu potresti morire o io potrei morire domani mattina quindi qualcosa dovrebbe accadere stanotte non è così? quindi non pensare in termini di settimane mesi, anni e decenni o vite pensa in termini di momenti perché la vita è nei momenti non pensare in termini